13.4 x 77.90 E' tutto pronto per il numero 173 Unbelievable, il cavallo di origine tedesca di 9 anni, da Manhattan nasce questo soggetto dal mantello baio con per gli Stati Uniti d'America Jessica Ciudà Representing the United States of America number 173 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti